Ciao amici di Bikeist Life, approfittando della bella giornata primaverile, oggi vi porto al lago di Avigliana, un piccolo lago nelle vicinanze di Torino. Visto che in tanti me l'avete chiesto, utilizzerò oggi il chest mount alla pettorina di GoPro, così potete vedere qual è la visuale che si ottiene con questo tipo di accessorio. Madonna, i secoli, e passarono i secoli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La luce! Vedo la luce! Io vedo la luce! E' una figata perché si può fare anche una bella passeggiata. E' un'uscita tranquilla, soprattutto per chi abita in zona Torino, vicinissima, ci metti due secondi ad arrivare ed è molto molto carino. E' così, c'è chi le frecce non le usa per niente e chi proprio ne abusa. Da qui praticamente comincia il percorso pedonale che costeggia una buona porzione del lago dove si può venire magari a fare una passeggiata, magari prendersi qualcosa in uno dei bar che ci sono lungo la costa, lungo la spiaggia. Comunque dicevo uscita ideale da dopo lavoro. La classica uscita alle porte della città dove finisci di lavorare, salti in sella e vieni a scaricare un po' di stress. Perché poi una volta arrivata al lago la visuale è questa. Carino, no? I laghi di Avigliana sono due piccoli laghi di origine morenica situati nel comune di Avigliana, nella città metropolitana di Torino. In base alla loro superficie vengono chiamati rispettivamente lago grande e lago piccolo. Sono credibile come un rom che ti legge la mano. Uh, fiatone cazzo. Si sente che non sono abituato a fare una beata niente. Eccoci. Ci rimettiamo in strada. Ok, allora qui sono fatto un bel giro. Vi ho fatto vedere il lago di Avigliana. È un giro, come vi dicevo, ottimo magari per il dopolavoro. Nel frattempo ho approfittato per fare un po' di riprese col chest mount. Fatemi sapere cosa ne pensate. Iscrivetevi, lasciate un like e se avete delle domande lasciatemele sotto il video. Ciao! 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 Grazie per la visione!